Il comune di Torre Maggiore, attualmente retto dal commissario prefettizio, ha approvato nelle scorse settimane il piano finanziario relativo alla gestione dei rifiuti urbani e, conseguentemente, con delibera numero 49 del 26 marzo 2019, le relative tariffe per la Tari 2019. Il calcolo delle tariffe, che saranno chiamati a pagare nel corso di quest'anno i cittadini e le imprese torremaggioresi, fanno riferimento ai dati del 2018. Ottime notizie, mi sento di preannunciare ai miei concittadini, perché dalla lettura dei dati ufficiali è prevista una nuova riduzione della Tari fino al 20% di media per le utenze non domestiche e si avranno a leggera riduzione anche per quelle domestiche, afferma Pasquale Monteleone, primo cittadino del comune dell'Alto Tavoliere fino allo scorso dicembre e candidato sindaco alle elezioni del prossimo 26 maggio, sostenuto dall'Udc, da Gile per Torre Maggiore, e dall'altra Italia. Questo importante abbassamento della tassa su rifiuti va a sommarsi a quello applicato lo scorso anno, sempre dalla mia amministrazione, dove ci fu una riduzione fino al 20% per le utenze non domestiche e fino al 9% per quelle domestiche. Una grande ulteriore boccata di ossigeno per imprese e famiglie della nostra città ha conferma che in poco più di due anni abbiamo rivoluzionato la gestione dei rifiuti, commenta Monteleone che prosegue. Siamo potuti giungere a questo storico risultato per i cittadini in poco tempo se consideriamo che al nostro insediamento la percentuale di differenziata era ferma al palo intorno al 16% e nel 2018 abbiamo chiuso quasi al 57%. Queste riduzioni si inseriscono nel più complesso quadro di gestione del comparto ambientale che ha visto anche assegnare il nuovo appalto della raccolta e smaltimento dei rifiuti avvenuto nei giorni a cavallo della caduta dell'amministrazione dame guidata. Appalto che prevede maggiori risorse per la gestione del servizio, e nuovi investimenti su personale, spaziamento, un disciplinare più puntuale ed attento di quello che troviamo e che, unito alla realizzazione di una vera isola ecologica finanziata dalla regione lo scorso anno, dovrà necessariamente migliorare la qualità del servizio, conclude Lino Monteleone.